Io le ho portato un cimelio, che è il contratto con gli italiani che ha firmato Berlusconi in questo studio nel 2001, se lo ricorderà. Qui dentro, nel 1994 c'era la flat tax che non ha mai attuato, qui invece ci sono gli scagiori, ci sono... Vabbè, non lo giustifichi sempre. No, io non lo giustifichi, non scherzando, non scherzando, non scherzando, non scherzando, faccio una battuta ogni tanto. Mentre qui ci sono la riduzione al 23%, al 33%. Allora, il mio competitor che dice che noi siamo incompetenti, le aveva già promesse quelle cose e non le ha fatte.